E i volley, i volley femminili, la vittoria di Chieri in Coppa CEV sancisce il dominio del volley italiano in Europa. In finale, battuta Nocciatelle nell'entusiasmo di Torino. Marco Fantasia. La voglia di Chieri di prendersi la Coppa CEV è tutta nei primi due set, quelli che bastavano contro il Nocciatelle per mettere in cassaforte la Coppa dopo la vittoria per 3-0 nella gara di andata in Svizzera. Battuta imprendibile e muro sanguinoso rendevano il primo set una pura formalità, con le Svizzere inchiodate a quota 9 punti contro i 25 delle Chierese. Il secondo set cominciava più o meno allo stesso modo. Poi finalmente le Svizzere si scrollavano di dosso le emozioni di trovarsi davanti al palladolfini di Torino al completo e cercavano di dimostrare le qualità non eccezionali ma comunque interessanti mostrate nella gara di andata. Non c'era comunque storia. Il 25-20 finale sanciva il 2-0 e la conquista della Coppa. Il resto della partita era accademico. Chieri accusava un normale rilassamento e le Svizzere ne approfittavano per portarsi a casa il set della bandiera. Nel quarto Chieri ricominciava a macinare il suo gioco e chiudeva la pratica con il definitivo punteggio di 3-1. Tutte protagoniste, dai muri della cipriota Zaccheiu agli attacchi della belga Grobelna, premiata come migliore in campo. Due set dove eravamo molto molto concentrati, poi il terzo dove abbiamo un po' calato. Però va bene, ci sta. L'importante è che abbiamo vinto e che abbiamo portato la Coppa a casa, perché è stato veramente un percorso incredibile e una serata da non dimenticare. Per il volley femminile italiano è un'altra annata da record. Dopo la Challenge di Novare, la Champions, che vedrà opposta in finale Milano e Conegliano, la Cev di Chieri. In Europa, il volley siamo noi.